Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi ritorna apprezzatissimo il maestro del dotto che ci racconterà una partita eccezionale, una partita di uno degli attaccanti più forti della storia degli scacchi. L'inglese Michael Adams, pensate, ne parlavamo proprio qualche giorno fa, perché Michael Adams, ancora fortissimo, era da solo al comando del London Chess Classic che si sta ancora giocando. Quindi pensate un po' che tempismo è il maestro del dotto. Prima di lasciare però la parola a Riccardo, vi ricordo che il maestro del dotto fa lezioni online ad ogni livello, individuali e di gruppo, regolarmente, lui fa partire sempre nuovi corsi online. Allora vi lascio in descrizione sotto al video i suoi link con tutte le info per contattarlo e per partecipare ai suoi corsi online. E adesso lasciamo proprio la parola a Riccardo. A presto! Salve a tutti gli amici del canale Scacchi con Gabriel. Oggi andremo a trattare l'argomento di come disporre bene i pezzi. Disporre i pezzi al top. Trovare per tutti i pezzi le caselle ideali. In questa specialità molti campioni del passato sono stati veramente degli esempi perfetti. In primo luogo viene da pensare a Capablanca, poi potremmo ricordare Smyslov, Fischer, più recentemente Kramnik. E tra questi campioni merita di essere annoverato l'inglese Michael Adams, che è il protagonista della partita di oggi. Che lo vede affrontare con il nero il grande maestro canadese Kevin Spraggett, che è stato due volte candidato al titolo mondiale negli anni Ottanta. Cominciamo la partita. E4, il bianco. E5, alfiere C4. La miglior risposta, diciamo, su alfiere C4 è considerata appunto cavallo F6, D3, cavallo C6, cavallo F3. E dopo alfiere C5 e C3 siamo rientrati nel gioco piano, che è una delle aperture che al giorno d'oggi vanno più per la maggiore. La risposta di Adams è una delle più giocate anche in questo caso, è pedone A6. Benché questa mossa non sia qualificabile come una mossa di sviluppo, possiamo vedere che questo pedone offre all'alfiere la possibilità di rifugiarsi in A7, nel caso in cui il bianco intenda avanzare per esempio un pedone con B4. E quindi l'alfiere potrebbe ritirarsi tranquillamente sulla casa A7. In più, può servire per giocare in un secondo momento una mossa come cavallo A5 con l'intenzione di cambiare proprio l'alfiere in C4. Non subito, ma dopo aver giocato D6 che difende il pedone A5. Per questo Spraggett gioca la mossa principale, cioè alfiere in B3. Alfiere A7, vediamo che sono delle mosse d'attesa. In sostanza Adams sta aspettando di capire quale sarà il piano di apertura di Spraggett, che sceglie in questo caso arrocco. D6, cavallo B di 2. Arrocco anche da parte del nero, uno schema molto classico. Torre 1. Qui siamo di fronte a un piano caratteristico della partita spagnola, che presenta molte analogie con il gioco piano. La manovra che ha in mente di realizzare, infatti, il bianco, passa per cavallo F1, G3 e, casomai, poi in un futuro prossimo, la conquista della casa F5, cruciale veramente per condurre un attacco contro il lato di re del nero. Queste manovre, pensate, sono già state teorizzate nel 1800. Uno dei primi campioni, appunto, a impiegarle è stato Wilhelm Steinitz, che vinse, tra l'altro, una partita molto bella contro Michael Cigorin nel 1892. Su questa mossa, la risposta di Adams è cavallo G4, puntualissima. Va a attaccare il pedone F2, non appena la torre si è spostata e ha perso la protezione di questo pedone. Che Spraggett immediatamente difende con torre E2. Ora, verrebbe sicuramente in mente di spingere il pedone in F5, ma purtroppo siamo inchiodati dall'alfiare in B3. Per questo Adams gioca a re H8. H3, il cavallo non tornerà in F6 perché è in tensione del nero, come abbiamo detto, spingere in F5. Per questo motivo il cavallo si sistema in H6. È una casa laterale, però è funzionale a quello che è il nostro progetto d'attacco sul lato di re. Ecco che porta avanti la manovra di Steinitz, cavallo F1, e Adams non modifica assolutamente quello che è il proprio progetto. Spinge lo stesso in F5. Nonostante il bianco sia in grado di doppiare i pedoni sull'arrocco, vedete, con alfiare per H6, G per H6. Ora qui potremmo dire, accidenti, questa è una bruttissima doppiatura sull'arrocco. Sembra che l'arrocco del nero abbia subito dei danni irreparabili. Anche perché la torre in G8, che verrebbe in considerazione per poter attaccare contro il re con quello che io denomino piano morfi, un piano che è stato escogitato per primo dal campione americano del XIX secolo, ebbene, torre G8 non si può fare a causa della presenza dell'alfiare in B3. A questo punto Spraggett prende in F5, ricatturiamo con l'alfiere, alfiare per F5, sviluppo, e adesso attenzione, perché il cavallo del bianco non può andare tranquillamente in E3 o in G3, perché qui c'è il classico tatticismo, alfiare per H3, che sfrutta il sovraccarico di G2. Se catturo, cade il cavallo, ovviamente, con torre per F3. Dunque, meglio giocare una mossa come cavallo 1-H2 con cui sostengo il cavallo in F3. Bene, possiamo dire che è terminata la fase di apertura e qua comincia la fase del mediogioco che a noi interessa in modo particolare. È qui che vediamo, Adams, rispettare quello che è l'ordine di attivazione dei pezzi, ovvero i pezzi che per primi devono essere attivati, mobilitati, sono i pezzi di maggior valore. Quindi andiamo con un ordine che mette al primo posto la donna, poi le torri, e infine i pezzi leggeri. Fossimo nel finale, il re precede addirittura gli stessi pezzi leggeri nella centralizzazione. Però qua siamo in una fase di mediogioco. Quindi la prima ad essere attivata è la donna. Donna in F6. Spraght a sua volta gioca donna di 2 per poter collegare prossimamente le torri e anche noi abbiamo nella torre che vedete in A8 il pezzo maggiormente fuori gioco. C'è una regola che il grande maestro Adrian Mikhail Cishin chiama la regola di Makogonov, dal nome di un trainer dell'Unione Sovietica che ha allenato per molto tempo Smyslov e anche il giovanissimo Kasparov, proprio sul consiglio di Bodvinnik. Makogonov in sostanza diceva in una posizione osservate il pezzo che gioca di meno e cercate di coinvolgerlo in questo modo l'intera posizione ne potrà beneficiare. E allora è la torre in A8 che va chiamata in causa. Torre A è 8. Re H1 Spraght per schiodarsi, ma la torre in A8 poi sostanzialmente a cosa serve? E ora Adams ci fa vedere qual è la sua idea. Torre E7. Non potendo andare la torre F8 sulla colonna G, in questo caso, incaricata ad occupare questa colonna di importanza straordinaria, è appunto la torre che poco fa si trovava fuori gioco in A8. Quindi torre E7. Spraght risponde con una mossettina A3 che, magari in previsione di cavallo A5, può servire per ritirare l'alfiere in A2 e conservarlo sulla diagonale A2 G8. Tuttavia, non era affatto intenzione di Adams giocare tale mossa, perché la sua idea è proprio quella di attaccare in maniera decisa contro il lato di re. E infatti andiamo avanti con torre G7. Il bianco risponde con torre in G1, proprio a protezione del pedone G2. E ora segue la mossa H5. Una finezza. Può servire per impedire la spinta del pedone in G4, può servire per impedire salti futuri di un cavallo sempre su questa casa e toglie poi il pedone da una casella come H6 dove era minacciato dalla donna avversaria. Spraght continua a giocare d'attesa. Non è che d'altronde la sua posizione, schiacciata oltre sotto la terza traversa, prometta molto bene, per cui non può far altro che aspettare per cercare di capire meglio il progetto del nero. I pezzi sono al top? Non ancora, perché a questo punto vediamo la seconda fase, dopo i pezzi pesanti, quella relativa alla mobilitazione, alla migliore collocazione, dei pezzi leggeri. Che cosa gioca il grande maestro inglese? Gioca alfiere D7. Perché questa mossa? Andiamo avanti con il bianco che gioca B4 e adesso cominciamo ad avere maggiormente chiaro il piano del nero. Adams infatti sposta il cavallo in E7. Ora possiamo capire che questo spostamento vuole portare l'alfiere in C6, alfiere che quindi sarà indirizzato, vedete, su questa diagonale, dove si trova appunto il re bianco. Lo stesso cavallo che si trova in E7 ha come suo progetto di attivazione il raggiungimento della casa F4. E da qui, assieme all'alfiere e alla torre che si trova in G7, può andare a colpire proprio contro G2. Un piano, come vedete, molto articolato ma che non può essere facilmente bloccato da parte del bianco che, come abbiamo già detto, si trova con i pezzi piuttosto passivi e anche scoordinati. Spraget gioca D4, risponde al centro, come dicono appunto i sacri principi ad un attacco laterale, replicare al centro. E prende D4 Adams, C prende D4 il bianco e allora portiamo avanti il progetto di attivazione del cavallo. cavallo G6, torre E4, cavallo F4, abbiamo raggiunto la casa ideale, H4, una mossa che blocca il pedone H5 ma che porta a pochi risultati, e adesso, dopo alfiere C6, andiamo a evidenziare la perfetta collocazione di ogni pezzo nero. Guardate, gli alfieri sono puntati contro l'arrocco, il cavallo in F4 a sua volta colpisce G2, i pezzi pesanti del nero sono disposti sulle due colonne semiaperte F e G. Con una disposizione del genere è ben difficile difendersi. Spraget blocca l'alfiere C6 con D5, Adams lo sposta in B5, non è un grave problema. Già il computer valuta come decisamente negativa la posizione del bianco, che forse avrebbe potuto giocare una mossa tipo alfiere B1, ma ne porta a poco, io qui avrei reagito magari con una spinta come C6 per aggredire D5 e magari riuscire a riportare l'alfiere sulla precedente diagonale. Fatto sta che comunque il grande maestro canadese non gioca la mossa alfiere B1 e sceglie una mossa sbagliata, G3. G3 crea dei buchi sull'arrocco, il cavallo può saltare immediatamente in H3 attaccando la torre G1, che sistemandosi in fianchetto non dà certo, come vedete, un bel effetto, perché una torre in fianchetto penso che sia la sua collocazione peggiore in assoluto. In più c'è un problema di carattere tattico, perché le combinazioni, gli aspetti tattici della posizione possono essere realizzati solo se i nostri pezzi sono effettivamente disposti al top. Che cosa gioca infatti qui Mickey Adams? Alfiere F1. Una mossa fantastica. L'alfiere sì, va in presa, intrappolerebbe la torre, ma è in presa. Tuttavia, la sua cattura porta immediatamente alla caduta del cavallo in F3, al punto che Spraggett ha addirittura già abbandonato, la torre in E4 è attaccata, il pedone F2 è minacciato quattro volte, potrei tentare torre E2, ma ecco che vedete, ora i pezzi neri decidono la gara. Cavallo F4, doppio alle due torri, con tanto di minaccia di matto, donna per G2. Praticamente forzata sarebbe stata cavallo E3, cavallo per G2, cavallo per G2, e come De Serci prendiamo anche un pedone in A3. Risultato, il nero ha una qualità e un pedone di vantaggio. Capiamo quindi perché il grande maestro canadese ha abbandonato. Concludo citando proprio una caratteristica del gioco di Mickey Adams. Qualche anno fa il grande maestro scozzese Jonathan Rosen affrontò appunto Adams in un match. Questo match terminò molto male per Rosen che perse 5 a 1 racimolando soltanto un paio di patti. Nelle analisi post partita tra i due giocatori il grande maestro scozzese ogni tanto chiedeva ad Adams hai previsto questa variante e gli snocciolava tutta una serie di mosse. E il grande maestro inglese diceva no. Poi gli riproponeva un'altra serie ma questa variante l'hai vista? e Adams di nuovo seraficamente rispondeva no. Al che il GM inglese si accorse dell'espressione perplessa dell'avversario e gli disse beh molto probabilmente ti starai chiedendo per quale motivo io non ho visto tutte queste linee e forse stai pensando che sto analizzando abbastanza poco. Ma in realtà vedi io seguo un po' il flusso del gioco. E qui mi viene in mente il paradosso di Reti quando gli chiesero quante mosse riesce ad analizzare un campione come lei. E Reti disse se zero che cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso noi possiamo avere quando abbiamo imparato bene qual è la disposizione generale dei pezzi magari in una determinata apertura possiamo in un certo senso liberarci dalla schiavitù delle varianti perché un po' come faceva Smislov che aveva come diceva Spaschi una intelligenza manuale sappiamo già dove quei pezzi vanno collocati quindi a Smislov bastava prendere un pezzo in mano che già la mano sapeva dove sistemarlo sulla scacchiera. Un po' così vale appunto anche per Adams è in questa partita dove ci ha insegnato a disporre bene i pezzi cercando di dare sempre la precedenza prima a quelli più importanti e poi a quelli meno importanti. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Grazie a tutti!